A Teramo, dopo la fuga dalle scuole per la scossa di terremoto del 14 febbraio, il sindaco Maurizio Brucchi ha convocato una riunione con i dirigenti scolastici per mettere a punto comportamenti comuni in caso di sisma durante le ore di lezione. Al termine dell'incontro è stato stabilito di continuare ad effettuare le già attivate prove di evacuazione in ciascun edificio scolastico a scadenze regolari ma con frequenza costante. Questo non solo per favorire l'acquisizione sempre più consapevole e pronta delle modalità di reazione di fronte ad un evento, ma anche per ingenerare una sorta di presa di coscienza tale da rendere il meno traumatico possibile l'impatto dell'evento stesso. E in caso di scossa durante l'orario scolastico e dopo l'attuazione delle azioni previste dai piani di evacuazione, si è deciso l'eventuale rientro negli edifici trascorso il necessario tempo di attesa e all'esito delle verifiche sul fenomeno. La ripresa delle attività didattiche sarà a discrezione, plesso per plesso e scuola per scuola, dei rispettivi dirigenti.